Luca Ricciardi, il Pisa in qualche modo era nel tuo destino, il nero-azzurro che per te ha significato otto stagioni a Latina e quella finale per la Serie B, adesso ritorni da un'altra parte. Sì, i colori sono gli stessi ma cambia la società, cambia la piazza, cambia la tifoseria, cambia tutto, quindi bisogna, come ha detto pure Andrea, parlare poco e dimostrare. Io ne ho tanto voglia di dimostrare e speriamo di raggiungere l'obiettivo. L'Arena l'avevi conosciuta nella finale play-off, l'ambiente Pisa l'hai conosciuta alla grande oggi con questa presentazione, c'è grande voglia, c'è grande ambizione. Sì, l'ambizione è tantissima come ho visto, l'entusiasmo non manca, l'Arena è uno stadio che ha una storia fantastica, c'è solo da fare risultato e nient'altro.